bravo comunque è stato un piacere e ti auguro una buona serata anche a voi un abbraccio ciao carissimo ciao caro eccoci qua eccoci qua allora alur alur almeno saluta quando hai via no cazzo ho detto ciao caro a me non mi hai detto una sega te ne sei andato se ci rincontriamo e che ne sai che ci rincontriamo magari non sapevo dove andavi ma si che lo sapevi fai sempre così fai ecco ecco qua ecco qua questo è quello che ti meriti questo è il karma non so se hai visto l'episodio di Fedez sul Monaco dove c'era anche un Monaco mostri un episodio di Fedez eccolo qua il karma tibetano ecco qua ecco qua questo è quello che ti becchi ma c'è anche il ciulgare in bocca questo è quello che ti meriti ad andare via ecco qua c'è anche un episodio di Fedez ecco qua c'è anche un episodio di Fedez